Il se mi consentite si può dire no si può fare ma non te lo sai cosa ho fatta basta non faccio rutti da una settimana perché siamo sempre dai che cazzo chissà cosa viene fuori ma dai non mi potete civilizzare in questo modo io non sono così aditta alla vila pronti? via 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 ti fai venire da me? va bene quindi lasciamo i film ma dentro Pronti a mirare? Vero! Tieni segna Apri lo sottotatore del canale Trasso dell'aranda Lascia sottotatore Sparra tutto, sparra tutto Piazza Ferro Sottotatore aperto Apri lo sottotatore di sinistra Di sinistra parte Nel trasto Tutto aperto Apri quello, il primo Apri No, il primo dal centro Quello apri Apri No, il primo dal centro Di sinistra, il primo dal centro Apri 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 Grazie a tutti.